1832 imprese scomparse tra il 2011 e il 2014, 33 opere incompiute nel 2014 e 40 nel 2015. Sono i dati relativi al settore edile abruzzese che continua a lanciare un grido d'allarme alle istituzioni. Auspichiamo ovviamente la sensibilità delle istituzioni pubbliche, auspichiamo che questo codice nel momento dei decreti attuativi porti ancora più avanti il discorso del rinnovole del patrimonio pubblico esistente e auspichiamo, così come è stato detto nella legge dellica, che ci sia una facilità per le piccole e medie imprese che purtroppo ad oggi, viste le condizioni di mercato ma anche viste le norme attualmente in vigore, non molto facilmente si riescono ad approcciare agli appalti pubblici. Secondo gli analisti, causa di tante difficoltà del settore, oltre la crisi, e anche la saturazione del mercato. Ecco dunque che il piano di ripresa dovrebbe concentrarsi sul recupero degli immobili esistenti, concetto che ben si sposa con l'allarme lanciato a Pescara dagli architetti, che avvertono basta cementificazione, il rischio idrogeologico è una minaccia ormai ineludibile. Intanto i dati del settore di costruzione sono purtroppo ancora negative, nonostante in Abruzzo abbiamo uno dei cantieri più grandi che ci sono in Europa e in Italia in questo momento. Dall'altro canto registriamo purtroppo un'altra nota sconfortante che è quella delle opere pubbliche incompiute. Rispetto alla centimiligazione di cui mi parlava lei, noi come imprese di costruzione e come associazione da anni declamiamo il fatto che il mercato delle costruzioni di fatto si è spostato. Oggi dalle fonti che abbiamo autorevoli del Cresme sappiamo che ben il 70% del mercato delle costruzioni è rappresentato dal rinnovo dell'edificio esistente.